Si avvicina alla fine dell'operatività di decontribuzione sud, ovvero la misura agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2021 per sostenere l'occupazione nelle regioni del sud Italia garantendo alle imprese un esonero contributivo del 30 per cento per ogni dipendente. L'agevolazione è in scadenza il prossimo 30 giugno come previsto dalla Commissione europea. Le preoccupazioni di Confindustria Abruzzo. Questa interruzione della misura a giugno ci porterà a un rischio enorme di tornare indietro dal punto di vista occupazionale. Un'interruzione che deriva dall'Europa in pratica, no? Sì, ma era negoziabile periodicamente fino al 2029. Ecco, noi chiediamo che questa negoziazione avvenga immediatamente e che ci sia già da adesso una decisione programmatica fino al 2029. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Fitto, lo strumento agevolativo sarà sostituito dalle nuove misure previste dal decreto coesione, soluzione che tuttavia non soddisfa pienamente. Il problema è che oggi l'oggetto occupazione nel mezzogiorno ha dato risultati immediati, importanti. Questa interruzione brusca, che non è programmabile oggi fino al 2029, invece noi chiediamo che lo si possa fare subito, ci può riportare indietro di qualche anno. Ci può essere direttore questo ripensamento? Noi ci auguriamo di sì perché in questo momento si sta facendo una campagna elettorale per, diciamo, le europee. Ecco, un dibattito della nostra nazione che pone un oggetto importante, un vero, diciamo, programma di politica industriale europeo e italiano deve poterci essere. Dentro questo dibattito ci deve essere anche quella della decontribuzione.